Gentili telespettatori, buona giornata. Furfaro detto il Furfi e Elena detta Ellie, quindi Furfi ed Ellie raccontano la solita bugia. Voi direte, vabbè dai, adesso raccontano sempre bugie. Eeeh, ve l'ho dimostrato, no? Ve l'ho raccontato. Le cose che io vi dico sono dimostrabili, nel senso sono ragionate. Ecco, sono ragionate. Allora, Furfi spesso è ospite da Floris, il Furfi, e dice, tutto infervorato, che c'è un attacco alla Costituzione. Bisogna difendere la Costituzione. Attacco. Quindi il Furfi ci parla di attacco e poi Elena, che si fa chiamare inspiegabilmente Ellie, dice, io e Conte siamo uniti per delle battaglie comuni. Lo facciamo sul salario minimo, sulla sanità pubblica. Figuriamoci, per la difesa della Costituzione, il premierato, un attacco alla Costituzione. Il premierato, che poi è l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, è un attacco alla Costituzione. Quindi Ellie e Furfi, Elena e Furfaro, vedono la modifica della Costituzione come un attacco alla Costituzione. Perché? Beh, il perché, insomma, il perché si va nel sempliciottismo. Allora, la Costituzione della Repubblica Italiana è un testo costituzionale di tipo rigido, gerarchicamente sovraordinato alla legge ordinaria, cioè la legge che c'è nella Costituzione è sopra la legge ordinaria. È il rango massimo che c'è in Italia è la Costituzione. Non c'è legge italiana che sia a livello della Costituzione. La Costituzione è la mamma delle leggi. Non può esserci una legge che sconfessa la Costituzione. Eh, allora l'hai detto tu. Se tu cambi la Costituzione sei... Attacchi la magna carta, magna magna. Allora, non ho finito però la frase di prima. La Costituzione è di tipo rigido, gerarchicamente sovraordinato alla legge ordinaria. E, è modificabile solo da leggi di rango costituzionale. La Costituzione è modificabile, non è immodificabile. È modificabile con un suo iter ben preciso. L'iter ben preciso dove, ad esempio, viene spiegato nell'articolo 138. Quindi, la Costituzione è modificabile. Lo dice la Costituzione stessa. Cioè, la Costituzione dice potete modificarmi a patto che seguiate un procedimento, i due terzi, l'elezione di qua, la Camera, il Senato, il referendum. Le regioni, bla 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 bla. C'è tutto un iter. Se la Meloni, il governo Meloni, come anche i governi passati di sinistra, vogliono modificare la Costituzione come la stessa Costituzione permette, non è un attacco alla Costituzione. È una modifica legittima. Non è che il governo Meloni faderà delle leggi speciali e la Meloni salirà dal balcone di Palazzo Venezia con le bandiere fratelliste a dire italiani, no? La Costituzione... Ecco, no, non andrà a fare un discorso agli italiani come faceva Benito imponendo una modifica alla Costituzione, un atto violento... è superficialità all'estremo, come ad esempio il PD che chiede o vuole chiedere in Europa di cacciare il partito di Edirama, premier albanese, perché ha osato mettersi d'accordo con la Meloni. Ieri vi raccontavo uno stesso fondatore del PD che diceva ma questo è inaccettabile che un PD sia arrivato a un livello del genere a chiedere una cosa così è proprio il massimo dell'inesperienza, della superficialità, del sempliciottismo. Ecco, e così Furfi, fedelissimo di Ellie, racconta le stesse cose di Ellie. Attacco alla Costituzione quando non c'è nessun attacco. Se tu modifichi una cosa che puoi modificare non stai attaccando nessuno. Non stai attaccando nessuno. E qui il senso della bugia di questi due personaggi, uno fedelissimo dell'altro, Elena fedelissima di Furfi e Furfi fedelissimo di Schlein. però mi capite che questo è basato sulla bugia. E attenzione, nella trasmissione di Floris Floris avrebbe dovuto dire scusi Furfaro ma perché attacco alla Costituzione se la Costituzione è modificabile lo dice la stessa Costituzione? Non è un attacco, è un cambio della Costituzione in maniera legittima. Però nessuno lo dice a Furfi nelle trasmissioni e Furfi andrà in altre trasmissioni a raccontare la stessa sciocchezza. L'attacco alla Costituzione. Perché nelle interviste a Elena nessuno di questi giornalisti dice scusi ma guardi che non c'è nessun attacco alla Costituzione. sono delle modifiche legali con un suo iter. Perché nessuno sbugiarda questi bugiardi? Perché bugie le dicono i bugiardi. Il bugiardo dice le bugie. Se loro dicono bugie come le dobbiamo definire? Dei visionari? Ecco, oggi, come vi ho sempre detto, l'opposizione basa le sue strampalate accuse su delle bugie. Strampalate accuse basate sulle bugie. E questo non è bello. Non è assolutamente bello. Grazie a tutti e arrivederci. A presto. Ci vediamo tra una ventina di minuti. Vediamo se sono altre sciocchezze, altre bugie o qualcos'altro. Grazie e buona giornata. Grazie a tutti.